Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, sono Fabrizio e quest'oggi voglio assolutamente parlarvi del campionato al quale la SD Reparto Corse, il nostro driver, partecipa. Prima di iniziare voglio salutare la prestazione di Tommaso Contu e di Fabio Napolitano nel campionato RGPL QR Factor 2, perché veramente hanno fatto mi pare quarto e quinto, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi, e che è un risultato enorme perché il livello è stratosferico, quindi bravi ragazzi perché hanno fatto veramente un ottimo risultato. Vediamo a noi, non è la stessa cosa per noi, però voglio anche qui ringraziare qualcuno, Alex Reds e Pietro Marchione, perché di Assetto Corsa Competizione Italia, perché veramente mi hanno accolto, ci hanno accolto come squadra e lo fanno con tutti, in un modo che veramente mi ha riscaldato il cuore, non ho altre parole, sono veramente stato accolto come se fossi un amico di famiglia, veramente mi ha colpito positivamente questa cosa qua, e quindi ci tengo a parlare di questa comunità perché non è solo l'accoglienza, ma è proprio la loro organizzazione, come il loro concept, la loro visione delle gare, la condivisione che hanno, si condiviscono l'etap, c'è una didattica che è fatta, c'è un'academy, sono veramente disponibilissimi, gentilissimi, riescono ragazzi a fare dei briefing bellissimi, e dei briefing, c'è un briefing dove tu per parlare devi alzare la mano su Discord, se ti tirano su, parli, e poi ti ributtano giù, è tutto molto ordinato, è bellissimo, hanno una direzione di gara che è precisa e con la quale non si può parlare, è pazzesca, e fanno un debriefing dopo gara per discutere di quello che è successo in modo civile, c'è una confrontazione tranquilla, e questo mi mancava veramente tanto, perché anche noi desideriamo aversi in casa nostra queste cose che non succedevano ragazzi, è bestemmie e cose, ed ieri per me è stato veramente bellissimo poter confrontarmi, dire, segnalare, guarda c'è stato questo, abbiamo visto il replay insieme dell'incidente, ho guardato prima, ero convinto di quello che insomma che non fosse colpa mia, ed è stato confermato, e poi alle persone è stato detto guarda la prossima volta dovresti fare così, c'è veramente qualcosa di costruttivo che alla fine è veramente bellissimo, al di là di quello che è il gioco e la competizione, proprio questo aggregare che hanno, questo modo di gestire è veramente fichissimo, e in più hanno delle idee veramente belle, che le sanno attuare molto bene, intanto la direzione di gara live perché prendi le penalità live, se non le prendi live te le prendi alla fine, intervengono subito, sono ultra disponibili, e si inventano anche delle cose tipo, vabbè già che ci siamo, che abbiamo questo campionato in corso, dai mettiamo il concorso per la miglior livrea, che non è una novità però, corso d'opera, c'è uno che lo ha segnalato e loro, apertissimo, open mind, ok facciamolo, e l'hanno proposto proprio oggi, quindi è questo tipo di atteggiamento che mi piace tantissimo, e mi sento veramente a casa perché ci sanno fare ragazzi, ecco perché lo voglio segnalare, poi come vedete dietro questa è la live di ieri sera, vedete comunque sono, cioè c'è un certo livello, replay, cose eccetera, sono in tre a commentare, fanno veramente qualcosa di molto carino, per venire al campionato che stiamo partecipando, quindi assetto forse, campionato si chiama Champions, vabbè non importa come si chiama, e mi ha colpito perché proprio è una series, quindi questa è la prima series, quindi una prima stagione di una serie, in cui praticamente in base agli iscritti si avrebbe dovuto fare una selezione o meno, allora la selezione sarebbe stata dopo i 40, si sono iscritti 81, quindi hanno aperto un server, dirvi che veramente, fatto molto bene, sono bravi, il giorno prima che iniziasse le qualifiche hanno fatto una specie di academy, proprio per dare delle dritte, sono avanti, chiaro di anni questi ragazzi, guarda, c'è veramente da prendere spunto proprio, ma anche in modo di vivere le cose, è fantastico, e quindi hanno aperto un server per quattro giorni, e hanno detto, dai sfocatevi, che i primi 40 passano, noi ci siamo iscritti in 5, purtroppo, dico purtroppo, anche se è un buon risultato, solo in 3 siamo riusciti a passare, quindi Aulo Cacciatore, Emanuele Tarsi e io siamo riusciti a passare, e per pochi centesimi veramente, Carmelo Silvaggio, che poi aveva pur mal di schiena, anche mal di schiena in quel giorno lì, e Andrea Balocchi, che aveva avuto veramente una sola giornatina per poter, diciamo, partecipare, e non sono passati di veramente pochissimi centesimi di quindi, fatto questo, che succede? Subito dopo, perché finisce la domenica, martedì c'è la gara, quindi non è che c'è tanto tempo, cioè, ti stampi il tempo, poi ti vai a allenare se non hai fatto il tempo buono, vai ad aggiornarti a vedere dove sei in classifica, insomma, è stato veramente bello, l'adrenalina lì in quel giorno è stato bellissimo, e il giorno prima cosa fanno? C'è l'estrazione per la griglia di partenza, e tu dici, come? La griglia di partenza? Eh sì, perché il gruppo dei 40 viene suddiviso in due gruppi, dal primo al ventesimo, dal ventunesimo al quarantesimo. Primo gruppo fanno un'estrazione per la scelta delle posizioni, cioè non è che sei arrivato primo qualificato, ti prendi la prima posizione, no, quindi fanno un'estrazione, fanno il primo gruppo, e che succede? Aulo si mette in, riesce ad avere, per fortuna, la seconda posizione, quindi ognuno ha la sua posizione. Io faccio parte, insieme ad Emanuele, del secondo gruppo, quindi estrazione dal ventunesimo al quarantesimo posto. Una, sono arrivato ventunesimo, posizione al ventunesimo. La prossima gara, io ed Emanuele facciamo parte del secondo gruppo, faremo parte del primo gruppo e saremo estratti per la posizione dal primo al venti, e via dicendo, poi sarà il secondo gruppo, ogni gara così, in modo tale da schiare le carte, ragazzi. Cioè, se è un alieno, ok, però, se parti quarantesimo, non hai tutte le, cioè non hai le, devi fare la rimontata, devi fare il overstappen della situazione. E con queste BMW devi essere paziente, perché quando sei in un circuito come Brandacce qua, 35 macchine, ragazzi, è tanto, eh, e l'adrenalina, cioè, ed è stato veramente stratosferico, molto divertente, cioè, è un campionato bellissimo, proprio, e la gente, malgrado ci siano persone che non hanno tanta esperienza, cercano di fare il loro meglio, cercano di migliorare, domande pertinenti, se c'è l'errore, subito, nel debriefing c'è le scuse, io ho ricevuto un messaggio, proprio adesso mi fa molto piacere, di una persona con cui abbiamo fatto 6-7 giri, uno dietro l'altro, è stato veramente spettacolare, troce, eccetera, eccetera, sorpassi a 3 a 4, purtroppo è andato lungo in una curva e si è diventato addosso, è finita la mia gara, pazienza, cioè, sul momento uno dice, ma, ero incavolatissimo, però, poi passa, uno poi deve razionalizzare, e comunque il gesto, il fatto di scusarsi, cioè, sono cose che non è che capitano tutti, quindi, proprio l'ambiente che c'è in questa comunità è veramente bellissimo, e io ve la consiglio. E quindi questa serie come funziona? Funziona che i primi 16 piloti, che alla fine di questo campionato di 4 gare, quindi c'è stato Brandaccio ieri, poi settimana prossima Imola, poi c'è Zolder e poi c'è, non mi ricordo quale c'è, il quarto, ma non importa, alla fine di queste 4 gare, i primi 16, quindi il 40% di questi 40 iscritti, passa al, cioè, si conquista la patente per le GT4, quindi, seconda stagione, correranno 16 con le GT4, il resto con le M2, di nuovo, e via dicendo, poi, sempre il 40%, penso, di questi 16 aspireranno a prendere le GT3, le M2, se riescono a salire, eccetera, oppure se bisogna riqualificare, insomma, c'è una cosa che non mi è chiara in questo senso qua, però, comunque, lo scopo è quello di andarsi a prendere la licenza, quindi la patente, quindi M2, GT4 e GT3, ragazzi, è una figata pazzesca, e quindi è tutta una serie di serie e di campionati basate sulle patenti, quindi probabilmente la serie S2 prossima, uno può, penso, iscriversi, se c'è posso, normalmente sì, per poter accedere, penso, eh, che lo scopo sia quello, perché, se no, su questa pista di 40 sarebbe, se uno può correre tutto l'anno, ad esempio, però, insomma, conquistarsi una patente è veramente figo, e qua il livello, ragazzi, è veramente altissimo, è veramente altissimo, cioè, è una cosa pazzesca, vanno come, che sono degli alieni, veramente, spettacolare, e devo dire che a livello di comportamento in pista, cavolo, 35 persone, ragazzi, anzi, devo dire che ci sono stati pochi incidenti, perché, con l'esperienza che abbiamo noi di organizzare campionati, ammazza quante cose abbiamo visto, quindi, niente, volevo condividere con voi questa, questa cosa qua, ragazzi, e, niente, la nostra gara come è finita, Aulo è arrivato undicesimo, io, purtroppo, ho avuto questo incidente al Giro 9, che mi ha completamente, diciamo, distrutto, rovinato la mia gara, e poi, sempre un'altra persona dietro nello stesso giro, che è rovinosamente venuto addosso, purtroppo, sono dovuto rientrare a cambiare le gomme, eccetera, eccetera, quindi, sono arrivato trentaduesimo, mi pare Emanuele, ventisettesimo, ventottesimo, ma non importa, ragazzi, l'importante è che, alla fine, mi sono comunque divertito, perché ci sono state delle belle lotte, e giusto per farvi capire con chi abbiamo a che fare, ragazzi, hanno fatto delle livre polizie e carabinieri, cioè, bellissime, veramente, ragazzi, spettacolare, hanno, veramente, sono una bellissima comunità, e avevo, cioè, ci tenevo veramente a fare questo video. Adesso sono dieci minuti e mezzo che sto parlando, ragazzi, e vi devo solo dire una cosa, che vi devo ancora parlare della B2000, vi devo parlare ancora della Epilab Pro, non trovo mai il tempo, ragazzi, quindi io, niente, se questo tipo di video, di raccontarvi così, un attimino, quello che faccio, per, mentre, cioè, se vi va che vi racconto un attimino le storie delle mie gare, senza entrare dopo nel dettaglio o fare la telecronaca, non esitate a lasciare un pollice in su, noi ci vediamo prestissimo, ragazzi, iscrivetevi al canale, come al solito, e andate a vedere ACC Italia su Discord, perché veramente vale la pena, e su Twitch hanno anche messo la live che vedete alle mie spalle. Va bene, ragazzi, noi ci vediamo presto, da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao! Grazie!